Papa Francesco recita l'Angelus dalla biblioteca del Palazzo Apostolico come durante il primo lockdown. Dobbiamo evitare che la gente venga in piazza e collaborare con le autorità. Poi aggiunge i gesti di bontà possono cambiare la storia. Sentiamo Ignazio Ingrao. La finestra chiusa, la piazza deserta, il Vaticano al tempo del lockdown. Papa Francesco recita l'Angelus dalla biblioteca senza affacciarsi. Dobbiamo farlo così per collaborare in quelle disposizioni che ha dato l'autorità per aiutarsi a tutti noi a fuggire di questa pandemia. Con commozione Bergoglio ringrazia per i tantissimi messaggi di auguri giunti da tutto il mondo. È impossibile rispondere a ciascuno. Profitto e esprimo adesso la mia gratitudine, specialmente per il dono della preghiera. Il pontefice si affida anche ai social per ricambiare gli auguri natalizi. E nella festa di Santo Stefano, primo martire della Chiesa, il pensiero va ai tanti cristiani vittime di persecuzioni. Sono più che nei primi tempi della Chiesa. Dal Pakistan alla Corea del Nord, dalla Nigeria alla Siria, sono almeno 300 milioni i cristiani perseguitati nel mondo, oppure costretti a fuggire a causa delle guerre, secondo la Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre. L'ondata di freddo e gelo sull'Italia.